Marco Angelini Anche perché appunto questa partita qui è una partita che soprattutto apre un periodo di partite importanti perché c'era questo derby di oggi, c'è il derby di sabato prossimo a Riva del Garda col C9 e poi la partita in casa contro il Lehmann, quindi è un po' un momento cruciale del campionato. E' il momento che decide cosa sarà il nostro futuro, anche non dimenticando che dobbiamo giocare, anche se dobbiamo passare in demi in questo momento, non dobbiamo dimenticare che le altre squadre ne giocano perché saranno squadre in rischio retrocessione. Noi giocando così penso che abbiamo buone possibilità. Oggi ha giocato un partitone l'avventura, permettimi mi sembrava la chitarra di Kite Richa di Insatisfaction, quindi proprio una spina dorsale molto importante. Bene così, le altre hanno recuperato quello che avevamo da recuperare di acciacchi vari, come ho detto in settimana alle ragazze dobbiamo seminare per raccogliere, quindi non è che siamo prima in classifica perché hanno deciso gli dei, ma perché ce lo siamo meritati allenandoci ogni giorno al massimo. Quindi abbiamo ancora due mesi e dobbiamo fare questo.